Benvenuti, ne che sogno il vostro guido col siciliano e oggi vi voglio dare i miei consigli per risorse per insegnarvi il siciliano. Ci sono i sottotitoli per chi vuole. Se vi piace ascoltare il siciliano, per favore mettetevi nei miei bracci e capordate il bottone per iscrivervi. Come sapete, il siciliano non è la lingua ufficiale. Non si usa il siciliano né nella scuola né nell'università. Adunca, per qualcuno che vuole insegnare la lingua, essere spettati per trovare fonti buoni per insegnare la lingua. Per cominciare, il santo graal, il primo passo è il libro. Impariamo il siciliano di Gaetano Cipurda. Questo è un vero libro di testo per chi non sa una parola di siciliano. E' scrivuto in inglese e c'è pure la traduzione in italiano, insegna la grammatica della lingua e pure la cultura. C'è tanto contenente, superchia 300 lib... 300 lib... C'è tanto contenente, superchia 300 pagine. E dire, ci sono tanti che dicono di scanzare questo libro. E scassioni sono tanti che Gaetano gli americano e parlano siciliano antico, falso, un è vero, il domicilienese è o vicino a Messina. Ma sta a Nova Yorki, negli Stati Uniti, da anni assai. Dicono che un si insegna bene la lingua. Potremmo cominciare con i nomi del libro, che usa la parola imparare, invece del standard insegnarsi. Ci sono italianismi nel libro, ma insegna la lingua come è parlata a fuori steri che manco conoscono l'italiano. C'è certo, vogliamo parlare un siciliano buono buono, senza rossi italianismi. E picca picca potremmo dare vita a parole scuidate. Ma a sto punto, nella storia della lingua, è normale che si descrive la lingua come è parlata oggi, al finale. C'è chi dice che ha chino di spaggia. Vabbè, ci sono qualche errori. Ma normale è che il primo ciavaglio è così. Quando ho trovato un altro libro di testo per il siciliano meglio di questo, fatemi sapere. Secondo, assicuratevi l'Accademia Siciliana su Facebook, Instagram, oppure datevi una tagliata o su siti. Edi fichero l'ortografia standard per siciliano. E chiesto gli è l'ortografia che ho soccato nei sottotitoli. Edi scrivono post tutto tutto in siciliano. E magari si insegnano la grammatica con margine e schiccazione. Preghiate il tempo a vedere tutto che c'è. I foimi dei verbi, i vocaboli più stazioni, pure i codici di grammatica difficili come i pronomi, più sempre o ni e ci. Ma perché sto o ni siciliano? Perché? A me è cosa preferuta che fanno gli ecciadocci le storie in siciliano. Ficcero il primo capitolo di Harry Potter, il fumetto di Yu-Gi-Oh! Eppure la rivista dell'Ono, lo curreri. Tutto che fanno è basato su un studio della lingua. E fatto un amore per il siciliano. Attezza! Atta leggere! Se potete leggere l'italiano, vi consiglio di leggere Andrea Camilleri. Sì, sì, usaccio che scrive una lingua tutta miscata con l'italiano. Ma sempre cerca di fare capire o lettori il significato della parola siciliana. A così si può capire sempre di più. E' come i rotti di formazione per bicicletta. Questo è un re di Gergenti. E' scrivuto quasi quasi in siciliano scritto. Però sempre italianizzato. E' buona leggere. Eddo scrisse pure ciò che fico pinente. Che gli è scrivuto un vero, vero siciliano. Bieta, ma... E' una traduzione di molto rumore per nulla. Che fosse... Much to do about nothing. Di William Shakespeare in grisi. Assai consigliati sono le traduzioni d'Accademia, come ti disse prima. Ed è difficile pure questo libro. Pi... Picciriddi. E potete vedere pure... Magari ci sono tanti fiabbi e conti con Ghiuti di Pitre. I suoi libri sono una grande fonte di cultura e tradizione siciliana. Mi è tosuto le jame a biblioteca di Accademia Siciliana. Che avevi i libri di Pitre. E ho scrittura in siciliano. Ma potete cercare su Google. Tutto anziano e adunca un'ata a cattare niente. Ma a mia mi piace avere un libro in mano. Adunca a cattare i conti di Pitre. Queste sono i fiabbi, novelle, racconti popolari siciliani. Volumi quarto. E questo... Questo... Uteizzo è. Tutte due... C'è a mira... Quattrocento pagine so. E niente di immagine. Luigi Pirandello, che fosse Pirandeddu in siciliano. Ranno scrittori siciliani. Scrisse qualche dramma in siciliano. Ma c'è in questa casa, in questo canale, uno sa most'a paura dialetto per siciliano. Ma c'è tutto il teatro in dialetto. Che fosse a lingua siciliana. E però ci sono un muccedio di comedie scrivute in siciliano. Per non parlare di grande quantità di poesia che c'è. Sempre cerco più libri per insegnarmi di più e per leggere a mio figlio. Adunca trovai chi sti bello di libri. Che picciriddi. Chi sti sogni unico a io. Abbecedario in siciliano. O conto di tu principino. E li mei primi c'entano pallori. E via. C'è picca però. Chi c'è, c'è con io. Se io ho trovato il equilibrio, per favore, fatemi sapere nei commenti. Questo è buono per principiare. Buoni studi. Insieme là, potremmo fare grandi passi con la lingua. Un siciliano è essere lingua co-ufficiale da Sicilia. Parlato ogni e ghiè. Grazie per l'italiano. A presto. Oop!